La lezione di oggi è su, vi faccio vedere di che cosa parliamo oggi, parliamo della parola italiana infatti, che molti di voi e anche molti italiani che studiano inglese, molti di voi pensate che infatti sia l'equivalente di in fact, ma non è assolutamente così, assolutamente no, è esattamente l'opposto, quindi questo è un amico falso, it's a false friend. Vi faccio qualche esempio, va bene? Allora, in italiano diciamo, possiamo dire Marco aveva detto che non sarebbe venuto e infatti non c'è. Marco aveva detto che non sarebbe venuto e infatti non c'è, qui in italiano stiamo usando infatti. Potete per favore scrivere la traduzione di questa frase in inglese, quindi Marco aveva detto che non sarebbe venuto, è un po' difficile ma potete scriverla in inglese, e infatti non c'è. In italiano infatti conferma la frase precedente, mentre in inglese in fact dice che la frase precedente è l'opposto. Marco aveva detto che non sarebbe venuto e Marco aveva detto che non sarebbe venuto e... ma in inglese se noi diciamo in fact la frase ha un altro significato, in inglese se noi diciamo Marco had said that he wouldn't come, but in fact he is here, quindi in fact in inglese è esattamente l'opposto. Vi faccio vedere la definizione di queste parole. Allora, in italiano infatti conferisce valore esplicativo o di conferma a una frase o sequenza di discorso rispetto a quanto detto in precedenza. conferisce conferma, quindi per esempio fa caldo, infatti la neve si va sciogliendo, fa caldo, it's hot, infatti la neve si va sciogliendo, and therefore the snow is melting, not in fact. Vi faccio vedere la definizione inglese di infatti o in fact scusate e la definizione inglese di in fact, che io ho scoperto che in fact è l'abbreviazione di in point of fact, non lo sapevo. Quindi è esattamente l'opposto dell'italiano. In italiano infatti conferma la frase precedente, in inglese in fact dice che la frase precedente è sbagliata o non vera. Torniamo agli esempi. Allora voi scrivete la traduzione in inglese per favore. Non mi è mai piaciuto Stefano e infatti ieri abbiamo litigato. Non mi è mai piaciuto Stefano e infatti ieri abbiamo litigato. In inglese non funziona. Se io dico aspetto la vostra traduzione prima. Mandatemi la vostra traduzione. Dov'è infatti? Dov'è infatti? I never liked Stefano. I never liked Stefano. And yesterday we had a fight. Esatto, quindi infatti conferma. Non mi è mai piaciuto Stefano e per questo motivo è fair enough e come hai detto è sure enough. We had a fight. Quindi è una conferma. In inglese non funziona. I never liked Stefano and in fact we had a fight. Non funziona. So che a casa tua non mangiate la carne. Sesma, dice la prima persona. La seconda persona risponde E infatti per cena abbiamo preparato un risotto. Quindi So che a casa tua non mangiate la carne. E la risposta E infatti per cena abbiamo preparato un risotto. Cosa significa questa frase e come traducete infatti in inglese? Bravi ragazzi, complimenti! I never liked... Oh sorry. Scusate. I know that in your house you don't eat meat and so of course for dinner. Almost. Quasi. È una conversazione. Sì, la prima persona dice I know that in your house you don't eat meat. E l'altra risponde, l'altra persona risponde Precisely for that reason for dinner we made risotto. I know that in your house you don't eat meat and indeed for dinner we prepared risotto. Sto leggendo le vostre traduzioni ok? I know that you don't eat meat in your home so... So yeah, so va bene anche so. Vedete voi state traducendo infatti con tutte altre parole ma mai in fact. Perché infatti non traduce mai in fact. Quindi therefore, so, for this reason, and sono traduzioni possibili per infatti complimenti. In italiano possiamo usare infatti anche da solo e guardate il significato di questa frase ok? Sono due persone. La prima persona dice Ti ho chiesto di venire alle cinque. Perché io penso che tu sia in ritardo. Ma tu dici Infatti sono le cinque. Come traduciamo questo in inglese? Sicuramente non con in fact. Sì, Google Translate è estremamente, estremamente misleading. Per questo io vi consiglio di non usarlo perché potete tradurre singole parole ma mai frasi intere perché non funziona. No, no, no ragazzi sono due persone, è un dialogo. Ok, I think Gerard got it. So I ask you to come at five o'clock. Persona due, duh, it is five. Esattamente questo è il concetto. Questo è veramente il concetto di infatti. Quindi in questo caso possiamo tradurre infatti con precisely. That's right. Quindi infatti conferma la frase precedente. E abbiamo l'ultimo esempio che vi chiedo di tradurre ed è Samantha è molto pigra sul lavoro. E l'altra persona, anche questo è un dialogo, quindi la prima persona dice Samantha è molto pigra sul lavoro. E la seconda persona risponde e infatti l'hanno licenziata ieri. E infatti l'hanno licenziata ieri. Come traduciamo questo in inglese? Allora, Samantha is very lazy at work. And the other person says, and because of this they fired her yesterday. Samantha is so lazy with her work. That's why she was fired yesterday. Esatto. Quindi e infatti significa that's why, for that reason. Quindi conferma la frase precedente. Samantha è pigra e infatti l'hanno licenziata. So she's lazy and that's why they fired her. Precisely. Perfetto ragazzi, un attimo che torno, torno da voi. Eccomi qua. Benissimo ragazzi, siete stati bravissimi come sempre. Questo concetto è difficile perché le due parole sono simili, infatti in fact. Molti italiani che studiano inglese lo sbagliano anche perché pensano in fatti e dicono in fact in inglese e non funziona. E anche voi molto spesso fate questo errore perché il dizionario non ti aiuta molto in questo caso. Quindi io vi ringrazio per aver partecipato a questa lezione. Vi ricordo di visitare il mio sito Italy Made Easy punto com, di iscrivervi al canale se non siete iscritti, ma nel vostro caso siete tutti iscritti sicuramente. E se volete aiutare questo progetto di Italy Made Easy nella descrizione c'è un link per contribuire, per donare, fare una piccola donazione a Italy Made Easy. Io vi ringrazio.